Continuano le grandi manovre elettorali a Nardò, tra alleanze d'appoggio ai candidati scesi in campo per quello che sarà il posto Pippi Mellone. E a svelare le carte questa volta sono i 5 Stelle che ufficializzano il proprio sostegno a Falangone. Onorevole Walzer di Novmi, per l'elezione sindaco del comune di Nardò, il Movimento 5 Stelle però ha deciso in modo chiaro appoggerete Falangone. Per quale motivo? Per un motivo semplice, perché questa coalizione nasce da mesi di lavoro, di duro lavoro di attivisti, di professionisti, di persone in gamba e per bene proprio come Carlo. Grazie al lavoro del nostro consigliere regionale Cristian Casili, della nostra deputata, la mia collega Suave Alemanno e di tutto il Movimento 5 Stelle locale che ha deciso di puntare con lealtà e senza ambiguità a questa candidatura che rispecchia un po' l'esperienza del Conte 2 ma allarga anche alla società civile, ai professionisti e anche e soprattutto ai giovani. Quindi questo è stato il nostro percorso e ci ha portato poi a questa candidatura assolutamente condivisa e sostenuta a pieno. Cos'è che rimproverate maggiormente al sindaco uscente Pippi Mellone? Dubbiamente è sotto gli occhi di tutti, qualcosa è stato fatto ma nella gestione di alcune dinamiche sicuramente c'è stato qualcosa che lascia a desiderare soprattutto per quanto mi riguarda, io mi sono occupato di alcune questioni legate soprattutto alla legalità e che vedono il sindaco ed alcuni suoi fedelissimi coinvolti in delle situazioni poco chiare, poco trasparenti. Io penso che noi da uomini e donne delle istituzioni dovremmo dare l'esempio, anzi dobbiamo dare l'esempio e quindi non è possibile che ci siano ombre e dubbi soprattutto per quanto riguarda la legalità e la gestione della cosa pubblica.